Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio parlare di una conferenza a cui ho partecipato di recente. La conferenza è stata tenuta a Roma tra il 20 e il 23 giugno e trattava tematiche di sicurezza informatica. Infatti si chiama ITASEC 22. Ora, quando ho partecipato a questa conferenza ho visto vari lavori scientifici che venivano presentati dai vari ricercatori e ho pensato perché non iniziare a pubblicare sul mio canale anche delle analisi rispetto alle pubblicazioni scientifiche che vengono fatte nel contesto informatico e più in particolare nel contesto di sicurezza informatica. Questo ovviamente presuppone una difficoltà intrinseca in questi argomenti perché stiamo parlando di ricerche scientifiche che vengono pubblicate proprio in questo periodo, in questi anni. E come funziona l'itere scientifico? Come funziona uno che vuole pubblicare? Bene, si hanno dei vari gruppi di ricerca, magari il proprio gruppo di ricerca, che seleziona uno o più argomenti e sviluppa su questi argomenti dei contributi originali, dei lavori originali, che quindi fanno avanzare in un certo senso la conoscenza umana rispetto a quel particolare argomento. E poi una volta che si è trovato un risultato lo si scrive in un articolo scientifico, in un paper, anche detto white paper, e poi si pubblica in una rivista. Una volta che la rivista ha accettato la pubblicazione, perché questo ovviamente non è sempre il caso e c'è di mezzo la peer review, che è il processo tramite il quale si controlla se quel risultato è valido ed è interessante per la pubblicazione. Una volta che appunto il risultato è stato accettato da una rivista, i vari ricercatori possono andare nelle varie conferenze a presentare il loro lavoro, per esempio in ITASAC 22. In ITASAC 22 sono stati presentati vari articoli interessanti, vari lavori interessanti, in questo video in particolare voglio dare un overview rispetto a quelli che ho visto io e a quelli che mi hanno interessato. In futuro poi farò degli approfondimenti più in dettaglio rispetto ai singoli lavori scientifici. E niente, quindi questa è un po' l'idea, spero ovviamente che sia interessante. Questi argomenti, ripeto, sono difficili perché parliamo dello stato dell'arte, però possono anche essere molto stimolanti e possono dare una overview, un'idea generale, su cosa significa pubblicare a livello scientifico nel contesto informatico. Quindi spero ovviamente che il video sia interessante, lasciatemi del feedback, come al solito mi fa sempre piacere e buona visione. Ora, in particolare quello che state vedendo è il sito ufficiale di ITASAC, che è possibile raggiungerlo tramite l'url itasec.it. In questo menu ci sono varie cose, la cosa più interessante è il programma, la program tab nel menu. Qui abbiamo varie tracks, vari percorsi, io ovviamente ho seguito solamente quello scientifico e ci sono andato solamente due giorni, il 21 e il 22, ora qui sta caricando. E questi, qua ci sono uno che può selezionare quale giorno è interessato, se uno mette all days fa vedere tutte le presentazioni scientifiche di tutti i giorni. Queste presentazioni sono divise in varie sessioni, quindi abbiamo session 1, session 2 e via dicendo. Alcune ovviamente andavano in contemporanea, quindi uno o vedeva una sessione oppure un'altra. Per esempio, nelle prime due, io ho scelto di vedere la seconda, che parlava di network security, e non ho visto la prima, che invece parlava dei problemi politici e sociali nella sicurezza informatica. E via dicendo, quindi ci sono varie sessioni. Ogni giorno io ho partecipato a due sessioni, quindi il 21 ho partecipato alla sessione 2, network security, e alla sessione 4, android security. E poi il secondo giorno che sono andato, che era il 22 giugno, ho partecipato alla sessione 6, software security and malware, e alla sessione 7, hardware security. Tutti il resto non ci sono andato, quindi non potrò parlare degli altri lavori. E quindi uno, una volta che ha selezionato la sessione a cui è interessato, può cliccare su see details, e si apre una pagina specifica con tutti i paper presentati in quella sessione, con il nome del paper in grassetto e i vari autori. Quindi iniziamo dalla network security, che è la prima sessione a cui ho partecipato. Ora, in questa sessione sono stati presentati 4 lavori diversi, che sono questo, 1, 2, 3 e 4. Il più interessante tra tutti questi, dal mio punto di vista, è stato il primo, perché trattava tematiche legate a HTTPS, ovvero al protocollo TLS, che è anche l'argomento su cui ho fatto la mia tesi magistrale, quindi mi interessava. Ora, come possiamo vedere dal titolo? Come si chiama questo articolo? Si chiama Near Real Time Anomaly Detection in Encrypted Traffic Using Machine Learning Techniques. Come possiamo già vedere è un titolo molto molto denso di keywords, di parole chiavi. È molto molto tecnico, ovviamente, perché è un titolo di un articolo scientifico. Ora, questi appunto titoli utilizzano queste parole chiavi per far capire immediatamente qual è il contributo dell'articolo. Che cosa hanno fatto per esempio i ricercatori in questo primo articolo? Bene, hanno utilizzato tecniche di machine learning, quindi di intelligenza artificiale, per risolvere il problema dell'anomaly detection, che è un tipico problema in questo setting, però questa anomaly detection è stata fatta in Near Real Time, quindi si presuppone che abbiano ottenuto delle buone performance, e poi è stata fatta nel contesto di traffico cifrato, encrypted traffic. Quindi già dal titolo abbiamo un overview rispetto a qual è il contesto in cui questo tipo di lavoro si muove. Questi sono i nomi dei vari ricercatori, e se uno vuole avere più informazioni a riguardo, una cosa molto semplice da fare è semplicemente prendere il titolo dell'articolo e andare su Google, ci sa pure Google Scholar, che lo può semplicemente scrivere qui, e ci sta la pagina di questo articolo che mette il link, e questi sono i vari siti dei vari giornali che pubblicano queste cose. Abbiamo il titolo, abbiamo l'abstract, ora che cos'è l'abstract? L'abstract è una breve descrizione del risultato per far capire che cosa si è fatto e che cosa si è ottenuto. Molte volte non siamo in grado di accedere direttamente al PDF, tipo in questo caso se noi proviamo ad accedere al PDF ci richiede l'accesso, e questo tipicamente o passiamo per l'università, e quindi accediamo al PDF tramite l'università, oppure lo facciamo tramite altri mezzi, oppure semplicemente non riusciamo ad accederci, e dobbiamo leggere solamente l'abstract. Quindi l'abstract è una breve descrizione del lavoro. Ora, che cosa hanno fatto questi autori? Leggiamo. In the last decade, the adoption of HTTPS for securing internet communications increased up to 90%. Quindi qua loro menzionano il fatto che nell'ultimo decade, quindi negli ultimi dieci anni, c'è stato un incremento nell'adozione di HTTPS, che ricordo è HTTP con TLS, quindi è utilizzare il protocollo TLS per proteggere le comunicazioni HTTP. Ora, threat actors adapted to this transition to HTTPS by writing more sophisticated malware that encrypt their communications with command and control centers. Questa adozione di HTTPS, quindi di un traffico più sicuro, non è stata fatta solamente dai server legittimi, tipo Amazon, Google e vari server in giro per l'internet. Questa adozione di TLS è stata fatta anche da questi cosiddetti threat actors, che sono tutte quelle persone che hanno intenti malevoli, ovvero che scrivono malware, che distribuiscono malware e che in generale guadagnano tramite l'utilizzo di malware o comunque sono incentivati ad utilizzare il malware per vari fini, anche magari governativi. Quindi che vuol dire? Vuol dire che l'HTTPS ormai non è solamente utilizzato dalle persone legittime, ma anche dalle persone con intenti malevoli. E questo però pone un problema. Perché? Perché, on the other hand, network security appliances are limited by the impossibility of inspecting packet payloads for deeper investigations. Cioè il fatto che il traffico è cifrato non solamente protegge gli utenti legittimi dal vedere i loro dati rubati, ma protegge anche i threat actors, gli agenti malevoli, dall'utilizzare i loro payload. Perché io magari il mio payload malevolo lo cifro e quindi lo proteggo. Quindi la protezione che garantisce la criptografia può essere utilizzata sia a fin di bene che a fin di male. E in particolare quindi tutti quei dispositivi che cercano di analizzare il contenuto del traffico non possono lavorare se i pacchetti sono cifrati. In this paper we propose a cyber security analytics which monitors encrypted network flows and extracts features to detect possible occurring attacks and anomalies by combining machine learning with a statistical approach. Quindi che cosa fanno gli autori con questo paper, con questo risultato? Vogliono utilizzare tecniche di machine learning con un approccio statistico per avere un analytics, quindi una specie di sistema in grado di capire se un determinato traffico all'interno di una rete è malevolo, ovvero è un traffico che magari contiene dei payload tipo del malware o comunque delle reverse shell, delle cose che un attaccante può utilizzare per prendere il controllo dell'infrastruttura o comunque per attaccarle in qualche modo. E quindi loro vogliono capire, ok, dato un flusso di pacchetti, questo flusso è legittimo oppure no? E loro vogliono proporre questa infrastruttura che permette di capire questa roba. The analytics is embedded in a network security monitoring platform named Ararnis, which provides cyber security analysts with a comprehensive overview of the monitored traffic and its traffic to support them in the identification of potentially malicious activities taking place. Quindi loro hanno trovato queste analytics che sono delle misure, dei modi per misurare il traffico rispetto a potenziali attacchi o robe del genere e poi hanno implementato queste analytics in una piattaforma che hanno chiamato in questo modo Ararnis e questa piattaforma permette a chi la utilizza di capire se un determinato traffico è potenzialmente malevolo oppure no. E poi qui parlano del testing, quindi questo lo schippo. E quindi questo paper l'ho voluto menzionare perché l'ho trovato interessante in quanto questi autori propongono delle euristiche, delle approssimazioni, delle misure, un modo per vedere un traffico e misurare quanto potrebbe essere malevolo oppure no. E in particolare si basano molto sul fatto che anche se utilizzano il TLS, anche se diciamo i threat actors, gli agenti malevoli utilizzano il TLS, comunque il TLS ha una fase iniziale chiamata TLS handshake. In questa fase i pacchetti non sono handshake, ho scritto male, handshake, quindi stretta di mano. In questa fase di TLS and shake i pacchetti non sono cifrati e quindi uno può analizzare delle determinate informazioni, ad esempio il certificato del server. Quindi loro utilizzano nel paper, entrando nei dettagli, utilizzano vari strumenti del genere, ovviamente con un approccio statistico, quindi fondamentalmente cercano di capire qual è il tipico traffico che ci si può aspettare in una rete e poi verificano quando un pacchetto è molto molto distante dal loro modello statistico e se è molto molto distante che è fondamentalmente questa anomaly detection, cioè riuscire a capire quali sono le anomalie all'interno di una rete e se beccano un'anomalia triggano un warning e questo ovviamente può essere utilizzato poi da delle persone per capire ok ma questo traffico effettivamente che cosa contiene. Quindi questo è il primo lavoro interessante sempre del network security. Allora gli altri lavori, per esempio il secondo e il quarto, in realtà sono simili tendenzialmente al primo. Perché dico che sono simili al primo? Perché anche il secondo e il quarto utilizzano sempre tecniche di machine learning, di ML, per costruire dei modelli statistici e utilizzare questi modelli statistici per ottenere qualche tipo di informazioni rispetto al sistema analizzato. Tipo nel secondo quello che si analizza è il traffico dei dati DNS. per capire se un traffico di dati DNS proviene da, è legittimo oppure no, oppure fa parte di una botnet, cioè è il traffico utilizzato all'interno di una botnet. Invece nel quarto si utilizza sempre tecniche di machine learning per fare analisi del traffico, però questo è su un protocollo particolare ICN che ancora non è implementato, quindi diciamo è una cosa molto molto teorica. Il terzo invece è un po' diverso dagli altri. Quindi mentre primo, secondo e quarto fanno sempre riferimento a tecniche di machine learning, che oramai è la moda nel campo della ricerca, quella di costruire modelli di machine learning, il terzo è un po' carino perché va contrario a questo trend. E fondamentalmente nel terzo loro risolvono un problema all'ottimo. Cioè risolvere un problema all'ottimo significa che trovano la soluzione migliore in modo deterministico, quindi senza approcci statistici, senza probabilità, è sempre risolto. E in particolare il problema che volevano affrontare è quella di questi Distributed Firewall Reconfiguration Transients, ovvero se noi abbiamo una rete e questa rete è fatta da tanti nodi, io magari potrei voler cambiare la configurazione dei firewall all'interno della rete, ma durante questo cambiamento potrei lasciare la mia rete aperta degli attacchi per pochi minuti o d'ore a seconda di quanto grande è la rete. E quindi loro vogliono trovare una sequenza di configurazioni che permette di passare dalla configurazione iniziale, tipo start, alla configurazione finale, tipo end, e qui ci sono tutte le varie configurazioni, tipo c1, c2, eccetera, e vogliono trovare una serie di configurazioni in modo tale che durante tutta la trasformazione alcune proprietà sono rispettate. Che ne so, per esempio alcuni server non devono mai essere pingabili da fuori dall'internet, cose del genere. Quindi l'ho trovato interessante, però appunto non voglio entrare nei dettagli rispetto al terzo, e più o meno questa era l'idea, ma ripeto, non voglio entrare nei dettagli, e ho visto in realtà che anche su Google Scora non si trova, quindi non so perché non si trova, o comunque non lo riesco a trovare, magari qualcuno ci può riuscire. E quindi niente, questo è per quanto riguarda Network Security. Per quanto riguarda invece la seconda sessione a cui ho partecipato, la sessione 4 di Android Security, ci sono stati questa volta tre paper presentati, che sono stati Repack Me If You Can, You Can't Always Get What You Want, e Deep Reinforcement Learning for Black Box Testing of Android Apps. Ora, in particolare, tra tutti questi, mi ha colpito molto il primo lavoro, questo Repack Me If You Can, an Anti-Repackaging Solution Based on Android Virtualization. E di questo articolo, fondamentalmente, se noi lo cerchiamo, quindi sempre su Google Scholar, cerchiamo l'articolo, ed è questo qui, e qui possiamo pure accedere al PDF, quindi noi andiamo sul sito, aspettiamo un po' perché è un po' lentino, andiamo sul sito, questo è l'abstract, ma possiamo scaricare direttamente il PDF per questo articolo. Quindi questo è il titolo. Ora, che cosa hanno fatto i ricercatori in questo lavoro invece? Allora, fondamentalmente questo è An Anti-Repackaging Solution Based on Android Virtualization. Ora, per capire il contributo di questo articolo, dobbiamo fare una breve overview rispetto a che cos'è il Repackaging nel contesto di Android. Quindi stiamo parlando di Android, e in particolare stiamo cercando di spiegare che cosa vuol dire fare Repackaging. Rep-a-ca-ging. Ok, fondamentalmente, le applicazioni Android sono dei particolari file con l'estensione .apk. Per esempio, noi potremmo avere l'applicazione facebook.fb.apk. Ora, quando noi installiamo l'applicazione facebook, stiamo installando una apk. Dentro questa apk, in realtà, sono contenute varie cose. Sono contenute, ad esempio, dei file .xml, che contengono delle risorse. E anche contenuto, ovviamente, il codice. Il codice, non mi ricordo in che formato è contenuto, comunque ci sta del codice, quindi ci sta del codice. E via dicendo, ci sono varie cose in questo apk. Quando noi installiamo una apk, installiamo tutte queste risorse. Ora, qual è però il problema? Il problema è che, supponiamo che questa sia l'applicazione legittima di facebook.fb.apk. Che cosa può fare un attaccante? Un attaccante può prendere questa applicazione, fb.apk, la può aprire e ottenere tutto il codice legittimo, i file .xml legittimi, e via dicendo, a questo punto può aggiungere all'interno di questa roba, quindi qua metto in più, fondamentalmente, posso aggiungere. Quindi io prendo questa roba. Quindi avrò file .xml e avrò del codice. Codice, possiamo dire codice originale. A questo punto io posso aggiungere altro codice. Un attaccante può aggiungere altro codice, può aggiungere del codice malevolo. Che vuol dire malevolo? Vuol dire che ha delle intenzioni, questo codice ha delle intenzioni che l'applicazione originale non aveva. E potrebbe essere, per esempio, l'estrazione di password o dati sensibili. E via dicendo. Una volta che ho aggiunto, quindi alle cose vecchie, ho aggiunto anche il codice malevolo, posso rimpacchettare il tutto in un nuovo apk e lo chiamerò tipo fb2, fb2.apk. Ora, questo procedimento è detto repackaging, quindi questo è il repackaging. E qual è il problema del repackaging? Il problema è che adesso, se io installo su un dispositivo fb2.apk, lui avrà sicuramente il codice originale di Facebook. E quindi quando Android, quando l'utente Android utilizza l'applicazione, vedrà tutte le cose di Facebook, tutte le funzionalità, potrà scrivere, eccetera, eccetera. Ma, senza saperlo, non solo sta eseguendo il codice originale, sta anche eseguendo il codice malevolo inserito dall'attaccante. E quindi magari quando lui mette la password, questa applicazione potrebbe comunicare con un server, il server dell'attaccante, che magari sta dietro a un database o roba del genere, quindi potrebbe comunicare con un server, e l'attaccante potrebbe avere password e username dell'utente, perché l'applicazione ha inserito del codice malevolo e quindi comunica con un server malevolo. Quindi questo fondamentalmente è il problema che questi ricercatori stanno cercando di risolvere. Come evitare queste tecniche di repackaging? Come evitare, come fare in modo che un attaccante non possa fare questo? Come fare in modo che un attaccante non possa, a partire da una pick-up originale, e costruirsene uno modificato con dentro del codice malevolo. Quindi questo lavoro in particolare mi ha colpito tanto perché lo ritengo molto concreto e che cerca di risolvere un problema alquanto reale per tutti gli utenti Android fondamentalmente. Quindi possiamo leggere l'abstract. Ovviamente questo è un articolo molto lungo e denso e ben scritto, l'ho letto tutto. Quindi consiglio di leggerlo. In futuro farò un video dettagliato su questo lavoro, quindi andremo in dettaglio e cercheremo di capire esattamente tutti gli aspetti del lavoro, del contributo originale, del contesto in cui quel contributo si colloca e via dicendo. E quindi per adesso possiamo leggere l'abstract. Quindi fondamentalmente loro stanno menzionando il fatto che ultimamente questi repackaging attacks in cui un attaccante prende una pick-up legittimo e lo trasforma in una pick-up malevolo, che contiene appunto del codice aggiuntivo malevolo, questi attacchi ultimamente utilizzano la tecnica di virtualizzazione fornita da Android e l'idea è quella di avere il codice malevolo che viene eseguito assieme al codice dell'applicazione, quello legittimo, all'interno di un container virtuale, di un virtual container, dove i virtual container in Android funzionano in un modo molto molto specifico che qui non potremmo affrontare per mancanza di tempo ovviamente. Quindi continuando. In such a scenario, the attacker can directly build a malicious container capable of hosting the victim up instead of tampering with it, thus neglecting any anti-repackaging protection developed so far. Quindi qual è l'idea di questi attacchi che utilizzano la virtualizzazione? Bene, fondamentalmente un attaccante che cosa può fare? Può costruire un container malevolo, un wrapper malevolo, un contenitore malintenzionato se vogliamo, questa traduzione è un po' divertente, e l'idea è che questo contenitore osta al suo interno l'applicazione vittima. Per esempio, uno prende il codice di Facebook, facebook.apk, crea questo container che contiene facebook.apk, che contiene tutto il codice dell'applicazione Facebook, però dato che questo container contiene al suo interno Facebook, ogni volta che l'applicazione prova a verificare se è stata modificata, ogni volta quindi che all'interno delle applicazioni ci sono dei controlli di sicurezza, questi controlli di sicurezza possono essere bypassati dal container malevolo e quindi fondamentalmente annullati. Tutti i controlli di sicurezza sono annullati in questo modo. Also, existing anti-virtualization techniques are ineffective, since the malicious container can intercept and tamper with such controls at runtime. Quindi non soltanto i controlli per verificare se l'app è stata modificata possono essere bypassati dal contenitore malevolo, ma anche i controlli per verificare se l'applicazione sta girando in un container, possono essere loro stessi, diciamo, presi. Quindi fondamentalmente l'idea, ripeto, è molto, capisco che magari possa essere molto, diciamo, troppo dettagliato, ma fondamentalmente l'idea è, l'attaccante crea questo container, questo contenitore, dentro questo contenitore può far girare quello che gli pare e qualsiasi cosa l'applicazione all'interno del contenitore fa, l'attaccante la può modificare, può modificare il behavior, può modificare la richiesta e può modificare la risposta e quindi ha il pieno controllo sull'applicazione fondamentalmente. So far, only two solutions have been specifically designed to address virtualization-based repackaging attacks. Quindi loro menzionano che fino adesso solamente due soluzioni sono state ideate per proteggere da questo tipo di attacchi. However, their effectiveness is limited since they both rely on static taint analysis, thus not being able to evaluate code dynamically loaded at runtime. Però entrambe queste tecniche, che proteggono da questi attacchi, fanno utilizzo di questa static taint analysis, che fondamentalmente, quando si parla di static analysis, si intende di fare un'analisi del codice statico, ovvero per come è scritto, senza quindi prendere in considerazione quello che succede quando il codice viene eseguito dal dispositivo. Quindi static per dire che io non eseguo il codice, ma lo leggo e faccio dell'analisi al riguardo. Mentre dynamic è quando io eseguo il codice e vedo come si comporta. To mitigate such a problem, in this paper we introduce Marvel, the first methodology that allows preventing both traditional and virtualization-based repackaging attacks. Quindi in questo lavoro loro introducono Marvel, che è una metodologia di protezione della pick-up. E questa metodologia permette di proteggere una pick-up rispetto a questi repackaging attacks, cioè impedisce ad un attaccante, o comunque rende difficile la vita di un attaccante che vuole prendere una pick-up legittimo e lo vuole trasformare in una pick-up malevolo. E questo sia per repackaging tradizionale, e sia per repackaging che fa utilizzo di queste tecniche di virtualizzazione. E quindi più o meno l'idea di questo paper è di introdurre questa metodologia che hanno implementato in Marveloid. Marveloid è l'implementazione di questa metodologia, l'hanno applicata su 4000 applicazioni, con una serie di protezioni, e hanno ottenuto vari risultati. E niente, poi ovviamente andremo ad approfondire più in dettaglio questo lavoro. Ripeto, capisco che possa essere molto complesso, ma l'idea appunto è quella di questo è lo stato dell'arte della scienza, quindi uno non può semplificare più di tanto. Quindi questo lavoro ha a che fare con questo repackaging dell'applicazione Android. Tra l'altro 0xBrow, se non ricordo male, ha vari video in cui risolve delle challenge con Android, quindi mobile security. In caso metto i link in descrizione, sono in inglese, se non sbaglio sono in inglese i suoi video, ma comunque sono molto molto interessanti, e quindi consiglio la visione per vedere un po' in pratica in cosa consiste per esempio un repackaging. E poi in futuro andremo ad approfondire questo lavoro in modo molto molto più dettagliato. E quindi questo è per quanto riguarda il primo lavoro dell'Android Security. Il secondo lavoro invece si chiama You Can't Always Get What You Want Towards User Control Privacy on Android. Anche questo lavoro l'ho trovato interessante, lo possiamo trovare su Google Scholar, penso, sì. Ora, in questo lavoro, questo è l'abstract e qui possiamo scaricare il PDF, poi tutti questi link ovviamente li metto in descrizione. Ora, in questo lavoro, che cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno cercato di capire qual è l'impatto delle privacy analytics sulle applicazioni Android, dove con privacy analytics, che sono scritte in questo modo, ora sta caricando, si intende tutte quelle raccolte dati che vengono fatte dalle applicazioni rispetto al comportamento dell'utente. Cioè, quando noi utilizziamo un'applicazione, ci sono varie statistiche che il dispositivo memorizza rispetto al nostro utilizzo e che poi potrebbe inviare al gestore dell'applicazione. Queste vengono chiamate fondamentalmente analytics libraries, quindi sono librerie che calcolano questi dati, questi dati di analytics, e che inviano le varie applicazioni. This work has twofold objective, quindi questo parla un pochino del contesto, tipo mobile application, hereafter apps, collect a plethora of information regarding the user behavior and his device through third-party analytics libraries. Appunto, che le applicazioni mobile collezionano un sacco di dati, un sacco di informazioni, sia rispetto al comportamento dell'utente e sia rispetto al dispositivo, tramite queste librerie, queste third-party analytics libraries. However, the collection and usage of such data raise several privacy concerns, mainly because the end user, the actual owner of the data, is out of the loop in this collection process. Però qual è il problema di tutte queste librerie? È che l'utente finale, molto spesso, non ha la minima idea dei dati che vengono raccolti, di come vengono utilizzati e a che cosa servono esattamente. Also, the existing privacy and non solutions that emerged in the last years follow an all-or-nothing approach, leaving the user the sole option to accept or completely deny access to privacy-related data. E comunque, anche se negli ultimi tempi si sta cercando di andare più verso la privacy, se vogliamo, comunque questi approcci hanno sempre una natura all-or-nothing, ovvero, o ci dai tutti i dati oppure non ci dai nulla e non c'è un modo per capire, per avere più trasparenza rispetto a quali dati effettivamente vengono raccolti e come vengono utilizzati. This work has two-fold objective of assessing the privacy impact of mobile analytics libraries and proposing a data anonymization methodology that offers a trade-off between the utility and privacy of the collected data and enables complete control over the sharing process. Quindi il loro lavoro ha due obiettivi. Il primo è cercare di capire, di fare assessing, di capire qual è l'impatto di queste librerie per la raccolta dati rispetto alla privacy, ovvero che tipo di informazioni estraggono queste librerie. E il secondo contributo è quella proposta di una metodologia per fare data anonymization, ovvero per anonimizzare i dati. E questa metodologia, ovviamente, diciamo, offre un trade-off tra l'utility, intesa come l'utilità, intesa come il beneficio di dare i nostri dati a queste applicazioni in modo tale che le applicazioni possono diventare più efficienti. E ovviamente però l'impatto che questo ha sulla privacy dei dati collezionati, sulla privacy dell'utente. E l'idea è quella comunque di avere un maggiore controllo rispetto a cosa viene condiviso, al perché e via dicendo. To achieve that, we present an empirical privacy assessment of the analytics library used in the 4,500 most used Android apps of the Google Play Store in late 2020. Quindi loro fanno un assessment rispetto alle maggiori librerie di analytics, librerie di questo tipo di dati, che sono utilizzate nelle 4,500 più scaricate applicazioni Android nel Google Play Store e le hanno scaricate, ovviamente, nel 2020, quindi tardo 2020, inizio 2021. E quindi poi propongono questo tipo di metodologia per anonimizzare i dati e via dicendo. Quindi questo paper pure è molto interessante, consiglio di leggerlo. L'ultimo paper di Android invece parla di Deep Reinforcement Learning for Black Box Testing of Android Applications. Ora non entrerò nei dettagli in questo, fondamentalmente però l'idea è quella di utilizzare una tecnica del Machine Learning chiamata appunto Deep Reinforcement Learning per effettuare cosa? Per effettuare il testing in modalità Black Box. E quando si parla di Black Box Testing si intende che io testo l'applicazione senza però utilizzare il codice dell'applicazione, ovvero io ho soltanto un Black Box che gli do un input e lui mi dà un output, quindi in e lui mi dà out. Io fondamentalmente il mio obiettivo è quello di far crashare l'applicazione dandogli particolari input. se riesco a far crashare l'applicazione ho trovato un potenziale bug, altrimenti no. L'idea è di utilizzare delle tecniche di Machine Learning, in particolare di Deep Reinforcement Learning, per automatizzare questo processo di testing, cioè di creazioni di particolari input che causano particolari output che possono essere crash del sistema oppure non crash. E quindi va tutto bene. Per quanto riguarda la prossima sessione a cui ho partecipato è la session 6 Software Security e Malware. Qui sono stati presentati ben quattro lavori. A me in particolare mi ha colpito il primo. Constantine Automatic Side Channel Resistance Using Efficient Control Flow e Dataflow Linearization. E quindi noi possiamo andare a vedere su Google Scholar. Google Scholar questo è il paper. Questo paper è super super affascinante. Ora qui ci dice il Get Access ma in realtà io questo paper l'avevo trovato comunque online disponibile quindi possiamo andare qui in Arxiv possiamo scaricare il PDF e quindi lo possiamo leggere tutto completamente. Ora che cosa hanno fatto questi autori e perché mi è particolarmente piaciuto il loro lavoro? Il loro lavoro fondamentalmente ha a che fare con la protezione rispetto a questi cosiddetti side channel. Ora che cos'è un side channel? Bene fondamentalmente quando il nostro computer esegue un programma quindi noi abbiamo un programma un prog.c che poi viene compilato tramite GCC e ci tira fuori un eseguibile prog e questo eseguibile lo possiamo eseguire tipo facendo .prog e va ad eseguire tutto il codice contenuto tutto l'assembly quindi questo ci sono una serie di istruzioni assembly queste istruzioni assembly sono eseguite una alla volta e modificano lo stato del computer modificano la cpu modificano la memoria modificano le cache tutto lo stato del computer viene modificato dalle esecuzioni di questo programma. Ora quando parliamo di side channel stiamo parlando di un metodo un channel un canale che è secondario infatti si dice side channel per estrarre informazioni interessanti dal programma dall'esecuzione del programma ad esempio se noi abbiamo per esempio un software crittografico ora i software crittografici che cosa fanno tipicamente utilizzano delle chiavi delle keys delle cryptographic keys delle chiavi crittografiche e utilizzano queste chiavi crittografiche per effettuare vari calcoli quindi è una key effetto vari calcoli magari potrei avere che ne so una procedura di RSA RSA utilizza la key per cifrare per esempio una roba del genere quindi possono utilizzare queste chiavi per effettuare varie computazioni ora l'idea del side channel è questa un attaccante vuole capire il valore della chiave giustamente perché se capisce il valore della chiave è in grado per esempio di decifrare i messaggi ora un attaccante però non può vedere direttamente il valore della chiave altrimenti sarebbe troppo facile quello che può fare però è può interagire con il server quindi questo è il server può interagire con il server che effettua queste computazioni e il server a seconda di come si comporta potrebbe rilasciare particolari informazioni all'attaccante per esempio creiamo questo scenario completamente ipotetico in cui abbiamo questo tipo di situazione abbiamo che la chiave è tipo la stringa ciao un esempio banale e poi abbiamo il codice che esegue fa if chi uguale uguale ciao allora lui mi esegue del codice quindi diciamo istruzione 1 istruzione 2 istruzione 3 e via dicendo altrimenti else lui mi esegue dell'altro codice quindi qua mi esegue dell'altro codice che ora qui non sto a scrivere però il programma è scritto in un modo tale che l'if esegue tutto questo blocco di codice esegue in tipo facciamo 10 che so millisecondi che è tantissimo però per esempio mentre il blocco dell'else esegue in 5 millisecondi ora che cosa può fare un attaccante un attaccante se è in grado di leggere questo codice ma non è in grado di vedere il valore della key potrebbe dire io faccio una richiesta al mio server se il server mi risponde in più di 10 millisecondi allora so che è entrato nel branch dell'if allora so che ho eseguito queste istruzioni ma se è eseguito queste istruzioni allora so che la chiave è proprio ciao altrimenti se il mio server mi risponde in meno di 5 millisecondi o comunque in meno di 10 millisecondi quindi facciamo tipo anche 6-7 millisecondi allora so che è entrato nel branch dell'else e quindi la chiave non era ciao ora questo è un esempio banale ma che cosa fa capire fa capire che un attaccante vedendo il comportamento del server riesce ad estrarre informazioni rispetto alla chiave crittografica e questa è una cosa ovviamente che non può essere permessa che dovrebbe essere evitata perché noi non vogliamo che l'attaccante sia in grado di capire il valore della chiave bene questo tipo di meccanismi in cui l'attaccante utilizza una proprietà emergente della computazione come ad esempio il tempo di esecuzione è detto side channel perché è un canale secondario in cui le informazioni comunque sono inviate in un certo modo sono codificate perché non è semplice non è semplice capire questa correlazione tra tempo di esecuzione e valore della chiave ma certe volte è possibile fare cose simili anche se molto 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 più complesse e quindi in generale il software che scriviamo potrebbe essere vittima di questi side channels e nel loro lavoro in questo paper in questo Constantine gli autori cercano proprio di evitare queste situazioni rimuovendole quindi possiamo iniziare leggere a leggere l'abstract quindi che cosa hanno menzionato in questo primo paragrafo fondamentalmente hanno detto che nell'era nel periodo dei side channels micro architetturali e qui c'è questa keyword micro architettural ora i micro architettural side channels sono questi side channel diciamo che sono stati scoperti intorno al 2018 e hanno vari nomi per esempio abbiamo spectre meltdown e via dicendo e questi attracchi che utilizzano questi side channel meltdown di recente è uscito anche pacman per il processore M1 e tra l'altro morro linux ha fatto un video a riguardo in caso lo metto metto il link in descrizione quindi potrebbe essere utile bene in questa epoca di side channel micro architetturali i vendors tipo Intel eccetera eccetera cercano di capire come evitare questo tipo di attacchi ma questo tipo di attacchi hanno a che fare con le micro architetture quindi con il modo in cui l'architettura del computer è costruita ed è gestita e invece i side channel più classici che hanno a che fare con la scrittura del software ad esempio il software crittografico non ci sono tanti meccanismi per proteggere da questi altri side channel quindi di side channel ne possiamo avere di vario tipo possiamo avere quelli micro architetturali o possiamo avere quelli a livello del software quelli micro architetturali sono caratterizzati dal fatto che utilizzano la micro architettura del processore per esempio utilizzano le cache che sono dei componenti all'interno delle micro architetture che servono per gestire la memoria in un modo più efficiente ebbene queste cache possono essere utilizzate per andare a estrapolare informazioni dal programma per esempio per capire qual è la memoria lato kernel di alcuni indirizzi cose del genere però quindi sono side channel che fanno utilizzo della micro architettura i side channel invece più classici sono presenti nel software per esempio nel software crittografico appunto come ho fatto vedere prima e questi altri side channel come sono sistemati bene sono sistemati tramite questa tecnica di constant time programming ora il constant time programming è una tecnica di programmazione che cerca di eliminare questo tipo di side channel di leakage di informazioni come bene nell'esempio che ho fatto vedere prima noi che cosa avevamo avevamo quell'IF avevamo un cambiamento di diciamo tempo di esecuzione nel branch dell'IF eseguivamo in 10 millisecondi nel branch dell'ELSE eseguivamo in 5 millisecondi bene nella constant time programming questo tipo di differenze vogliono essere eliminate per cercare di fare cosa per cercare di rendere che ad ogni branch dell'IF quindi sia nell'IF che nell'ELSE eseguo nello stesso tempo in un tempo costante in un tempo che in particolare non dipende dai segreti da variabili che possono contenere segreti criptografici perché se io elimino questa dipendenza sono in grado di fare in modo che un attaccante semplicemente vedendo la risposta del server e semplicemente potendo misurare il tempo di risposta del server non è in grado di capire quali sono i valori delle chiavi criptografiche e via dicendo quindi questo tipo di programmazione detta constant time proprio per questa ragione ora però per garantire il constant time programming non ci sono tool automatici ci sono dei tool di valutazione ma la presenza di tool automatici invece è ancora alle prime armi ai primi sviluppi e constant time vuole andare proprio in questa direzione voglio offrire un sistema compile based poi ci arriveremo che permette di rendere un software più sicuro rispetto a questi side channel quindi mentre per i transient execution attacks che hanno a che fare con i side channel micro architetturali i vendors attuali tipo intel stanno cercando di trovare delle soluzioni automatiche o comunque delle soluzioni robuste per quanto riguarda invece i side channel classici c'è sempre questo bisogno di fare programmazioni specifiche a constant time quindi che vuol dire vuol dire che scrivere codice constant time è molto molto difficile anche per i programmatori più esperti ed è per questo che ogni anno vengono scoperti vari side channel in software production ready cioè in software che comunque è utilizzato da tante persone e che è sviluppato da programmatori molto bravi e tutti gli effort che sono stati ottenuti per cercare di diciamo trasformare i programmi in constant time cioè per rendere constant time i vari programmi avevano diciamo delle limitazioni o dal punto di vista della sicurezza o della compatibilità rispetto all'altra tecnologia alla tecnologia diciamo utilizzata e quindi questo ovviamente porta ad una difficoltà di applicare questi sistemi ai software che vengono effettivamente utilizzati in this paper we present constant time a compile based system to automatically harden programs against micro architectural side channels quindi loro presentano constant time e infatti constant time è un gioco di parole che fa riferimento al constant time e che cosa fa questo sistema è compile based e permette di diciamo rendere un programma più robusto rispetto a questi side channels in modo automatico constant time pursues a radical design point where secret dependent control and data flow are completely linearized che vuol dire che per fare questo l'approccio utilizzato è quello di linearizzare tutti i control flow e tutti i data flow ora che vuol dire linearized vuol dire che per esempio quando io ho questo if e vado nell'if oppure nell'else l'idea di constant è dire ok se io eseguo solo uno e non l'altro potrei introdurre un timing channel potrei introdurre una differenza che potrebbe essere misurata allora io che faccio bene li eseguo entrambi sempre li eseguo entrambi sempre li linearizzo in modo tale che un attaccante non può capire cosa sta facendo in programma rispetto a eventuali side channel e quindi non ci sono informazioni che vengono rilasciate dal programma cioè il fatto è che quest'idea di linearizzare il tutto prima di tutto per costruzione è molto applicabile nel senso si può applicare a quasi tutti i software il problema il problema è che potrebbe comportare una state explosion cioè una complessità un'aggiunta enorme di complessità al software che effettivamente viene scritto perché il software che viene scritto è molto complesso se poi devo eseguire tutti gli if tutti gli else eccetera tutti i branch e tutti gli accessi ai dati potrebbe diventare un casino cioè potrei rendere un software estremamente inefficiente to address this challenge quindi la challenge del paper il contributo del paper è proprio di implementare questa idea l'idea di linearizzare tutti gli accessi ai dati e tutti gli accessi diciamo tutti i control flow in un modo che però sia efficiente e qui ovviamente parla entra molto molto nel dettaglio per dire quali sono le tecniche utilizzate per ottimizzare questo processo di linearizzazione e infine quindi loro hanno provato a utilizzare constantine rispetto a questa ad una componente della libreria wolf ssl che implementa sempre una stack ssl tls e hanno trovato un overhead del 16% su degli standard benchmarks e quindi questa è l'idea ripeto giusto per fare un attimo la gratificazione loro fanno linearizzazione dei control flow vuol dire che se per esempio abbiamo un if and else non eseguo soltanto la cognizione vera ma eseguo entrambe e ovviamente lo faccio in un modo ottimizzato e poi non solo per il control flow perché questo sarebbe control flow il control flow ha a che fare con l'if diciamo la chiamata funzioni e via dicendo e poi anche il data flow cioè l'accesso ai dati quando loro accedono ad un dato cercano di linearizzare anche questo processo e quindi diciamo diventa molto molto interessante e anche complesso questo paper non l'ho letto tutto non l'ho studiato tutto però è super super interessante e lo vorrò approfondire e poi eventualmente una volta che l'ho approfondito una volta che ci ho capito qualcosa potrò fare anche su questo paper un ulteriore approfondimento e poi il resto diciamo questi altri tipo questi ultimi due avevano a che fare con l'utilizzo sempre di machine learning ma questa volta non per capire il traffico per distinguere traffico malevolo da traffico legittimo ma nel contesto del malware e quindi erano tecniche di machine learning per capire se un determinato software poteva essere un malware oppure no e questo lo fanno in vari metodi per esempio l'ultimo lavoro lo faceva tramite le API le chiamate API del software quindi loro analizzavano quali erano le chiamate API e cercavano di capire da queste ultime se il software era un malware oppure no e niente e quindi questo chiude la sessione 6 quindi per quanto riguarda l'ultima sessione che ho seguito è stata la session 7 hardware security quindi security a livello dell'hardware e in particolare sono stati presentati tre paper quello che mi ha più catturato l'attenzione è stato l'ultimo ora noi possiamo andare su Google lo cerchiamo andiamo sul sito del Polito del Politecnico di Torino e andiamo nella versione visibile a tutti questo è il secondo link e qui fondamentalmente abbiamo il paper hardware base capture the flag challenges ora leggiamo l'abstract cioè qua stanno dicendo che in un contesto in un mondo in cui la sicurezza informatica sta diventando sempre più importante e in cui però il talento la workforce è sempre meno presente rispetto a ciò che è richiesto la gamificazione gamification cioè rendere imparare una specie di gioco comunque rendere imparare un po' più simile ad un gioco sta diventando sempre più importante sia per quanto riguarda il training che per quanto riguarda il recruitment cioè per capire se una persona è in grado di gestire determinate challenges determinate sfide tecnologiche io creo una mini challenge un mini gioco e faccio giocare questa persona a questo gioco e vedo come si comporta within cyber security gamification quindi nel contesto della sicurezza informatica la gamificazione massima è ottenuta in quelle che sono chiamate capture the flag CTF nelle sfide CTF che tra l'altro le macchine di active box sono considerate un tipo di CTF e in generale appunto ci sono un sacco di eventi competizioni e corsi che allenano per questi CTF in questi eventi i partecipanti sono confrontati con i miei e i miei ai problemi di hacking cyber attack e cyber defense e in questi CTF i partecipanti chi vuole partecipare è confrontato con una serie di problemi con una serie di sfide relative al mondo dell'hacking dell'attacco e della difesa informatica e quindi l'idea è quella di imparare queste tecniche di imparare questa conoscenza tramite delle challenge tramite dei giochi e qui entriamo nel contributo principale del paper perché che cosa hanno detto in questo paragrafo hanno detto che anche se la sicurezza a livello hardware è fondamentale per la sicurezza in generale del contesto informatico comunque nel contesto delle CTF invece di questi giochi delle challenge basate sull'hardware sono poche e quindi giocano un ruolo molto molto marginale in the present paper we focus on hardware based challenges providing first a formal definition and then proposing for the first time a comprehensive taxonomy we eventually share experiences gathering in preparing and delivering several hardware based challenges in significant events and training courses that involve hundreds of attendees c'è loro che hanno fatto hanno cercato di definire prima di tutto che cos'è che rende una challenge una hardware based challenge cioè in che senso la challenge ha a che fare con l'hardware quindi prima loro diciamo introducono una definizione formale e poi propongono una tassonomia di tutte le possibili challenge hardware che ci possono essere e infine condividono l'esperienza che hanno avuto nel diciamo generare questo tipo di challenge e nel gestire un'infrastruttura che permetta di avere queste challenge a livello hardware e quindi niente questo è interessante perché parla di un tipo di challenge che effettivamente si vedono di poco che sono quelle hardware based ho trovato la presentazione anche molto interessante perché appunto l'autore parlava del fatto che loro hanno diciamo organizzato delle hardware based challenges per la cyber challenge che è una competizione che si tiene ogni anno in Italia e quest'anno c'erano anche appunto delle sfide hardware based e le hanno organizzate con la loro piattaforma con la loro piattaforma con una loro infrastruttura quindi ho trovato questo paper molto interessante e questo più o meno chiude le cose che volevo trattare di Itasec poi il resto non sono andato a vedere quindi ricapitolando abbiamo qui ho menzionato il primo near real time anomaly detection che ha a che fare con anomaly detection in traffico cifrato poi abbiamo repack me che ha a che fare con una tecnica per fare anti repackaging per proteggere dal repackaging e poi you can't always get what you want che invece ha a che fare con la privacy su android e infine qui abbiamo parlato di constantine che è questo sistema compile based quindi è un compilatore che prende del codice e lo rende constantine fondamentalmente e quindi questo pure interessante e poi un pochino di roba di malware tramite machine learning e api calls ma questo un po' di meno e infine le ctf a livello hardware quindi un'infrastruttura per gestire le ctf a livello hardware spero che il video sia stato interessante io metto tutti i link in descrizione per poi chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente io approfondirò in specifici video alcuni di questi paper quelli che mi hanno colpito di più e quindi niente questo termina il video e vi auguro una buona giornata e al prossimo video